Nuovo sbarco di migranti sulle coste meridionali della Sardegna. Ben 44 clandestini, tra cui anche tre donne e tre bambini di tenere età, hanno messo piede tra domenica mattina e questa notte sulle coste del Sulcis, tra Sant'Anaresi e Sant'Antioco. I primi sbarchi si sono avuti domenica mattina tra Portopino e il litorale di Coeguados a Sant'Antioco. A bloccarli non appena sbarcati, sono stati i carabinieri della Compagnia di Carbogna e gli agenti del commisariato di Carbogna. Sul posto presenti anche gli agenti della Compagnia Barraccellare di Sant'Antioco. Un barchino, infine, è stato intercettato in mare dalla Guardia di Finanza. Questa notte, invece, nove migranti, quattro uomini, due donne e tre bambini, hanno messo piede sulla spiaggia di Turri, nell'isola di Sant'Antioco. Ad individuarli non appena sbarcati, sono stati gli agenti della Compagnia Barraccellare di Sant'Antioco, coordinati dal Capitano Marco Mocci. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Giovanni Suergio e un'ambulanza della Sulcis Emergenza di San Giovanni Suergio. Tutti e 44 i migranti sono stati poi accompagnati al centro di prima accoglienza di Monastir. L'ultimo sbarco, con ben 52 migranti in una sola notte, si era verificato sulle coste del Sulcis all'inizio di settembre.